Chiude con un bilancio in chiaro-oscuro l'edizione numero 96 di Pitti Uomo, un'edizione da ricordare per gli eventi dalla sfilata di Ferragamo in Piazza della Signoria a quella di Luisa via Roma alla Piazzale Michelangelo seguita dal concerto di Lenny Kravitz, ma anche un'edizione da ricordare per la scarsa brillantezza del mercato e dunque per la delusione degli espositori, 1.220 marchi per il 45% stranieri alla fortezza da basso. I compratori di moda maschile del Pitti Uomo sono scesi a quota 18.500, meno 3% rispetto ad un anno fa, di cui 8.200 stranieri da quasi 100 paesi. Nel complesso i visitatori del salone hanno superato quota 30.000. I mercati che hanno visto diminuire i buyers sono Germania, Spagna, Giappone e Stati Uniti, oltre l'Italia, che rappresenta ancora il più importante sbocco per la moda maschile. Tra i mercati che crescono invece Francia, Turchia, Hong Kong, Belgio e Russia. Nessuna parola invece sulla Cina, che pure il mercato estero ha cresciuto di più nel 2018 per la moda uomo, con un più 36%. Avevamo previsto un rallentamento delle presenze, dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di PT Immagine, ma grazie alla nostra leadership abbiamo detto molto bene, ma è vero che la distribuzione sta cambiando sotto i nostri occhi, oggi un compratore di una grande piattaforma online pesa quanto decine di boutique specializzate anni fa.